amici itinerari di pesca buon pomeriggio e siamo qui a a fare questo video perché ci sono arrivato in tantissime mail dove i nostri amici del sito ci chiedono ma se io vinco la la gara poi il buon acquisto il premio come come lo ricevo ecco siamo qui per far vedere passo passo la creazione del buon acquisto che poi in questo caso spenderete su fishing evolution punto com allora e andiamo sulla scheda sulla scheda prodotto del buon acquisto inseriamo il questa è una procedura che noi facciamo come soggetto che da il premio ok inseriamo i nostri dati scegliamo l'importo che il pescatore ha vinto 30 euro ok e poi qui mettiamo il numero di telefono del pescatore se il pescatore l'ha fornito la mail del pescatore ok per motivi di prevesi mettiamo le nostre logicamente e poi mettiamo la motivazione premio gara gennaio 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 2016 2016 ok eccolo qua andiamo itinerari di pesca paga per il il nostro pescatore ok perfetto pescatore che abbiamo qui quindi io faccio aggiorno questa è la scheda del nostro pescatore che si ritrova il codice sconto direttamente nella sua area riservata quindi il nostro pescatore deve essere registrato a phishing evolution ok nel momento in cui itinerari di pesca acquisto il buon acquisto per voi a voi vi arriverà una mail o una mail e il numero di telefono ok quindi se siete già registrati ve lo ritrovate direttamente nella vostra area riservata altrimenti vi registrate e andate nella vostra area riservata e ve lo ritrovate qui lo potete aggiungere direttamente un ordine se avete l'ordine già aperto quindi faccio così ed eccolo qua il meno 25 euro calcolo spese eccolo qua da 119 più le spese spese spedizioni scala di 25 e 90 se avessi preso un prodotto da 25 euro spendevo solo le spese di spedizione ok per qualsiasi cosa ci lasciate un commento ci mandate una richiesta di informazione direttamente dal sito se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace se non vi è piaciuto lasciato un bel non mi piace se volete commentare usate il box sempre su youtube seguiteci su youtube su tutti i vari social e non dimenticate di seguire phishing evolution che ci ha ospitato ciao e alla prossima